Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube ufficiale di musica dedicata al folk, quindi all'organetto Chris Ruggeri, Organetto Music Se volete seguirmi e ascoltare tantissima musica gratuita, cliccate sul tasto iscriviti Un tasto di colore rosso Non vedo l'ora di attendervi a braccia aperte Iniziamo con questa polchetta che vi ho promesso Una bellissima cosa allegra, visto il periodo un po' così così Vediamo cosa ne viene fuori, va bene? Buon divertimento! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao, alla prossima!